Con il DPCM del 3 novembre scorso tra le misure introdotte è stata prevista anche la capienza limitata al 50% dei mezzi di trasporto pubblico e misure di igienizzazione atte a prevenire i fenomeni di contagio. Su uno dei due aspetti Trenitalia sembra essersi allineata anche per quanto concerne le tratte regionali. Sull'aspetto della pulizia e dell'igienizzazione i cartelli affissi sui treni sembrano alle volte alquanto generosi. I pendolari che affrontano quotidianamente il viaggio sulla tratta a Napoli-Sapri sanno bene che la pulizia e l'igienizzazione del convoglio è spesso affidata a un semplice colpo di fortuna. Convogli fatiscenti, spesse volte nemmeno puliti a dovere, si fa fatica ad immaginarli igienizzati in deposito prima di essere usati nella tratta quotidiana. Difficile stabilire quale sia la regola e quale l'eccezione. Fatto sta che per chi per lavoro è costretto a viaggiare, le misure di igienizzazione e sicurezza non andrebbero trascurate nemmeno in un caso su 100.